e on and on we'll go Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video io sono Benete Sammole e oggi in compagnia di Giuseppe Gioffredi alle ore 19 ci sarà la professione dei Santi Medici e di Santa Maria Coritti della chiesa dei Cappuccini Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!